Da quando deve passare la fibra e anche che non gli ha mai fatto lavori, perché qua è il massimo di lavori, cosa che fai? Gli mette un po' di asfalto, quel camietto, copre la buchetta e tutto finisse là. Adesso bisogna fare i lavori, la speranza è che metta un po' a posto sta strada, perché non gli ha mai fatto niente per anni. Ci mancavano anche i lavori per la posa della fibra, la martoriata situazione di Via del Cristo. Qui, ci indica il cittadino, lo scavo è stato ripetuto più volte con buca, che si aggiunge a buca. Una strada percorso ogni giorno da numerosi veicoli, collega la piovese a Via Bembo e anche da camion. Con le buche ha aumentato anche la polvere, perché a differenza di quanto accadeva un anno fa, manca anche la pulizia. Ultimamente ormai da un anno a sta parte, quel camion lo vedo qualche volta e se lei guarda i belconi qua, i poggioli, è proprio pieno di polvere. Polvere, bucche e anche rifiuti abbandonati incivilmente ai bordi delle strade, come questo sacco nero, pieno di immondizie e questo trasparente, dimenticati dal sindaco Giordani, nonostante la strada sia inserita nel piano delle asfaltature. Questa è la sensazione dei cittadini sconsolati, costretti a pensare da soli, anche all'illuminazione raccontano. Lei può fare, chiedere, ma qua nessuno fa niente. Come la luce qua, se sa tre volte, va bene sul giro di una settimana, vede che adesso ho messo su proprio la lampadina, quella è a basso consumo, perché se vuoi muovere luce, dovemmo aranciarsi noi altri.